Bologna, Roma, Torino, Genova, Alessandria, Asti, ti proteggo io direi che è la cosa più importante. Oggi non è molto in forma Yogi, però lo vedo un po' provato. Nel tour della radio era molto più sburone, come si dice da noi, oggi ha fatto molte foto, è stata una giornata terribile. Oggi è importante, qui a Milano direi che il motivo principale, come dicevi te Davide, è quello che ci fermiamo a fare una raccolta di farmaci e antiparassitari per i rifugi del sud, che in questi periodi affrontano un'emergenza tremenda che è quella degli abbandoni. I cani però, da quei meravigliosi personaggi che li abbandonano, non vengono abbandonati davanti al rifugio o in albergo, ma per strada e quindi spesso vengono recuperati investiti. Se voi pensate che l'anno scorso abbiamo avuto dei cani morti perché non c'era la moxicillina per curarli, che costa 5 euro, abbiamo pensato che forse si poteva cercare di fare qualcosa. Se poi pensate, come ultimo dato che mi suggerisce Yogi adesso, che il 65% dei farmaci mi è lasciato scadere, nel nostro paese, per un totale di spesa stimato intorno ai 20 miliardi, forse muovendoci in tempo e recuperando qualcosa potremmo dare una mano a questa gente che, io ripeto, tutti i giorni scende all'inferno veramente perché... e quindi oggi siamo qua. Marco, io so perché sono un ficcanaso, ti ho visto su Facebook, invece l'altro giorno sei andato a fare un'altra cosa molto bella per i tuoi vicini di casa che hanno avuto dei problemi in questi giorni. Ce lo vuoi raccontare velocemente? Sì, abbiamo fatto... lì devo dire che il merito, anche se io ho delle velleità da subrette, ormai lo sanno tutti, ma il merito è più di mia moglie Cristina, che anche lei insomma è volontaria, e abbiamo fatto una raccolta lampo per gli amici, i nostri vicini, terremotati. La protezione civile ci aveva detto che servivano pannolini, in particolar modo pannolini e salviette, e quindi siamo andati a comprare 1200 e passa pannolini e non so quante salviette. Ovviamente, e c'è la mia foto con il carrello, ovviamente alla cassa del supermercato Cristina ha spiegato che era la mia dotazione per il weekend, e io ho fatto questo mio figurone, però oggi vengono consegnati, credo ammirandola, dove la situazione è veramente drammatica, peggio di quello che si vede in televisione. E quindi, insomma, nel nostro piccolo abbiamo fatto anche questo. Prima che qualcuno ci dica, correte sempre dietro agli animali e agli umani, non ci pensa nessuno, invece assolutamente non ci siamo ricordati di tutto. Ti proteggo io, potete consultare le prossime tappe domenica 10 giugno, domenica 17 giugno. Domenica 17 giugno arriverà fino a Roma e tornerà di nuovo fino a Bologna, come sapete bene. Bene, inizio adesso a dirvi, se avete dei farmaci dovete mandare un messaggio al 329 65 65 867. È il cellulare della moglie di Marco, riceve i messaggi, riceve le telefonate, è importante partecipare anche solo per stringere la mano a una persona che fa qualche cosa. Se non avete un farmaco non fa nulla, portate un biscotto a yogi. Marco, ti ringrazio ancora tanto. Grazie, grazie a tutti veramente. Grazie a tutti.